Buongiorno, questa è una comunicazione di servizio. Sto aiutando insieme ad altri volontari un canile che si chiama Cane Orgolioso e che si trova nella provincia di Pesaro Urbino, nella località di frontone sotto un monte che si chiama Catria. È un canile non statale, quindi totalmente gestito dai volontari, dalle persone che donano e che quindi lo supportano per puro amore verso i cagnolini e quindi diciamo che è tutto sulle spalle dei volontari e di chi fa donazioni. Dallo scorso venerdì siamo diventati finalmente ente del terzo settore, quindi da associazione Ollus praticamente adesso possiamo chiedere a privati, imprese, in ambito della denuncia dei redditi il famoso 5 per 1000. Quindi sto diffondendo il messaggio anche sul canale che ho a disposizione perché si sappia che si possono aiutare questi cagnolini anche in questo modo e molti di questi cagnolini sono anziani, non facilmente quindi adottabili. C'è Lillo per esempio che è un cagnolino adorabile ma purtroppo è cieco, oppure Pepe e Laki che hanno un male non curabile purtroppo e hanno bisogno comunque di medicine, cure mediche, la piccola dolce anche che andrebbe operata, Rocco e Ugo che andrebbero sterilizzati, quindi poi c'è il cibo, la delattizzazione, il veterinario, insomma si cerca di provvedere a tutto quello che è naturalmente necessario e quello che si può anche dare non necessariamente come un biscottino extra eccetera. Quindi naturalmente utilizzo il canale per dare il codice numerico al quale destinare eventualmente se chi voglia aiutare questo servizio alla luce il canile e attraverso il canile di cane orgoglioso. Quindi vi lascio il codice numerico anche nella descrizione di questo video. Naturalmente a chi dona e a chi decide di fare questo questa donazione anche del 5 per mille quello che possiamo dare in cambio è sicuramente una enorme, immensa benedizione per l'amore ricevuto e naturalmente chiedere al divino che sia restituito direttamente dalle sue mani in forma di salute e benedizioni in tutti i campi della vostra esistenza, di quella dei vostri cari, dei vostri animali e così via. Quindi vi allego nella descrizione del video anche il link alla pagina facebook del nostro canile e qui vi comunico il codice numerico che troverete naturalmente anche in allegato nella descrizione. Il codice è 0 2 7 1 0 6 0 0 4 1 8 naturalmente potrei scandagliare numericamente questo codice tra l'unità divina del 271 che ci porta un 10 il 6 simbolo dell'umanità che si eleva attraverso il suo cuore e la sua anima e il 13 numero cristico per chi segue questo canale e la mia esperienza personale lo è, nonché gematria della parola unione e della parola amore. 13 dato dal 418 come 58 anche numero delle profezie messianiche. Ecco come anche si lavora a fianco delle forze del bene perché nulla è un caso e tutto concorre ad essere, a trasformare l'ombra in luce alla luce anche della giornata di oggi ve lo dico in cui stanotte appunto sognavo i bombardamenti e stamattina ho visto naturalmente il bollettino dei diciamo delle vittime di quanto è successo e sta succedendo nella striscia di Gaza per cui una goccia di bene in qualunque forma spesa opera la trasmutazione su tutti i livelli della realtà in qualsiasi forma venga espressa secondo la sensibilità di ciascuno. Con questo messaggio intanto vi saluto e vi auguro una buona giornata ci vediamo presto ciao 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 ciao